Buongiorno, buongiorno Gobbi, come va? Io non bene, quindi iscrivetevi al canale, cliccate la campanella così mi aiutate a star su di morale. Perchè non bene? Adesso ve lo spiego. Io se fossi in Elkan, veramente ragionerei, se io fossi lui per come sono io di carattere, ragionerei su portar via tutto, un po' come ha fatto con la Exor, che se non erro è in Olanda, alla sede in Olanda, perchè non mi sento al posto giusto in Italia in questo momento. All'interno di quella che è la struttura del sistema sportivo calcistico italiano. Perchè non sto bene? Perchè sono abbastanza... oggi è uno dei giorni in cui sono demoralizzato. Sono demoralizzato perchè? Perchè ho letto tutte le 36 pagine di motivazioni e poi non essendo un legale ho cominciato a ascoltare chi se ne occupa, tra chi è semplicemente avvocato e chi invece è avvocato e si occupa proprio di giustizia sportiva. Non so, io ho sentito con molta attenzione, non mi viene in mente il nome, Sergio Santoro, che è l'ex presidente della Corte Federale d'Appello, quindi di quei palazzi là, quelli che hanno deciso. Quindi voglio dire, non è il capo ultra dei drughi. E lui ha detto determinate cose, quindi ho ascoltato un po' tutto e mi rendo... l'idea che avevo l'altro giorno quando ho fatto il video dove ho detto è tutto impacchettato... Trovo conferme. Perchè vedo veramente una struttura della giustizia sportiva che è talmente un corpo estraneo a tutto il resto, ma allo stesso tempo un corpo estraneo che può decidere di fare quel cazzo che vuole. Che fatico a vedere degli appigli. E' per questo che sono negativo nei confronti del ricorso che verrà fatto al tribunale del CONI. Non lo so, ho questo senso di pessimismo, spero veramente che sia legato a tutti i vari aspetti e di essere smentito, ma sono pessimista per questo motivo, perché cane non mangia cane, perché vedo appunto un sistema della giustizia sportiva che deve autoalimentarsi, che deve andare avanti e che può andare avanti facendo quel cazzo che vuole. Con le loro regole, che non hanno nulla a che vedere con il diritto in senso di diritto utile per fare dei giusti processi. Cioè è una roba veramente incredibile, incredibile. Questa cosa qui è incredibile. Vi faccio questo esempio che porta appunto ad alimentare questo mio pessimismo. Nelle motivazioni i giudici hanno scritto in poche parole che la Juve ha falsificato dei bilanci e che quindi ha alterato da un punto di vista sportivo le competizioni. Allora, innanzitutto non spiega in che modo la Juve avrebbe alterato i campionati anche se avesse alterato i bilanci. Perché, voglio dire, dovrai dare un peso alla cosa. Perché viceversa sono veramente le motivazioni delle chiacchiere da bar. Sono le motivazioni delle chiacchiere da bar. Sta cosa veramente mi dà un fastidio, ragazzi. Io per il mio lavoro, diciamo che mi occupo di scienze o comunque di situazioni che devono avere dei criteri, che devono essere pesabili, riscontrabili, ripetibili. Io leggere delle motivazioni del genere vado giù di testa perché questi che dicono che sono stati alterati le competizioni sportive senza dire come e perché è una roba che veramente è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, in che modo la Juventus avrebbe tratto dei benefici sul campo falsificando i bilanci? Sto dicendo quello che dico loro, perché loro dicono che i bilanci sono falsi ma anche lì ci arriviamo. Cioè, come? Dovrai pesare la cosa e spiegare quale potrebbe essere. Ma non lo fanno? Non lo fanno così possono dare tutti quei cavolo di punti che vogliono di penalizzazione. È facile così, visto che parliamo di articoli che dicono da uno a più punti, quindi infinito. Non è pesato. Non so, nella giustizia ordinaria ci sono le sanzioni e le possibilità quando tu commetti un reato. No, lì no, da uno a infinito. Fai quel cazzo che vuoi tu. E quindi nelle motivazioni non dicono quella roba là per giustificare il fatto che possono far calcare la mano sulla slealtà sportiva ma senza motivare, senza dare spiegazioni, senza dire niente. Tra l'altro richiamano a delle precedenti sentenze dove in realtà le squadre coinvolte sono state penalizzate al massimo con tre punti, per il resto sono state tutte ammende. Quindi veramente è una roba, io fatico a pensare che sia stata scritta da dei giudici e che abbia un valore. Cioè nel senso, per me sono delle robe talmente fuori dal mondo che non riesco a capacitarmi di come possono avere valore se non per il motivo che ho detto all'inizio. Perché è un sistema, quello della giustizia sportiva, che può fare quello che vuole perché è indipendente e ha delle sue regole e può fare quel che vuole. Veniamo ai bilanci falsificati perché anche questa è una porcheria ragazzi, ma una porcheria grossa. Cioè tu come fai a dire che dei bilanci sono falsificati? Praticamente, inattendibili, quello che vuoi, ma il succo è questo. Come fanno loro a dirlo? E' qui che interviene anche, tra le altre cose che ha detto l'ex presidente Santoro, dice ma questi giudici non hanno competenza per fare queste valutazioni, a parte che ci vuole del tempo per fare queste valutazioni, ma poi ci vogliono delle consulenze tecniche di professionisti che si occupano di queste cose. E queste consulenze tecniche non ci sono state. Quindi, perché io sono avvilito? Perché se in questa situazione, che secondo me era di una linearità clamorosa, sono arrivati a fare sta roba qui, mescolando articoli, costruendo quello che gli serviva per arrivare a dire che possono applicare quel maledetto articolo 4 della realtà sportiva in quel modo. Voi pensate cosa può fare la stessa giustizia sportiva adesso con la manovra bilanci, prima ancora che si concludano i processi della giustizia ordinaria. Cioè, anche qui, sulla base delle loro ipotesi, sulla base di quello che è in possesso nelle loro mani in quel momento, senza approfondire, senza entrare nel merito, possono dire va bene, gli diamo altri 15 punti, e tu stai zitto e devi riceverli. Cioè, vi rendete conto dell'assurdità di tutto questo? Io, boh, non ho parole. E ripeto, ho letto tanto e ascoltato tanti esperti perché non è la mia materia. O non trovo una figura che si occupa di giustizia sportiva, che si occupa di questa materia, che non abbia sollevato dubbi su quello che sta succedendo. Non ne trovo una, al di là dei tifosetti da bar, che veramente, ripeto, vorrei che capitasse loro una cosa del genere, perché qui si tratta di oggettività, si tratta di fare una valutazione oggettiva, e dovrebbero ragionare nel merito, e chiunque dotato di un minimo di intelligenza dice che c'è qualcosa che stona. Però capite per quale motivo io sono avvilito, perché pensate cosa possono fare, possono fare quel che vogliono, con lo stesso criterio assurdo applicato in questo caso delle plusvalenze. In più, Gravina ieri ha parlato, lo dico apertamente, ha detto una gran stronzata, se ci sono delle leggi sono da applicare, sono dispiaciuto perché, figuratevi se provo piacere in questa cosa, sono seriamente preoccupato, poi dice se ci sono delle leggi che vanno applicate. Ma che leggi? Ma cosa stai dicendo che le leggi tu, tra l'altro per normare questi aspetti legati alle plusvalenze, non hai fatto niente, ma vergognati anche tu, ma vergognati. E poi c'è il Tribunale di Madrid che di fatto ha detto che la Superlega si può fare, e che UEFA e FIFA non possono avere il monopolio, non possono sanzionare, quindi praticamente c'è stato un ribaltamento di quello che ci si aspettava dopo il parere dell'avvocatura. Insomma, un calderone di cose, ragazzi, mesi infuocati, mesi infuocati, però io sono avvilito, sono avvilito per i motivi che vi ho detto. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, commentate, coraggio, lo so, sono il primo a dirlo, ad averlo detto, che con pazienza, tanto la Juve tornerà ad essere l'incubo di tutti, però è dura, quando capitano queste situazioni io veramente sento una grande ingiustizia, sento tante cose che non funzionano e mi sento impotente. Ciao Gobbi!